Sto viaggiando in compagnia della viaggia autrice inglese Emily Lowe e del suo libro Guida Donne in difesa in Calabria, nel quale racconta il suo viaggio svolto nel 1859. Dopo Tiriolo, alla sosta successiva, un grasso commissario di polizia chiese un posto fino alla prossima città, in cui doveva fare un'indagine su di un delitto o altro, e poiché il corriere non gradiva che stesse dentro insieme con sua signoria, in quanto, come ci spiegò in privato, prendeva bustarelle, la nostra sentinella fu costretta, su ordine scritto, a lasciare il suo posto in carrozza. Quando noi ci lamentammo di perdere così la scorta della sua carabina, Don Raffaele ci disse, non fa nessuna differenza per la nostra sicurezza, perché la guardia sarebbe la prima a scappar via, all'avvicinarsi dei briganti, dopo aver coraggiosamente sparato qualche colpo in aria. Qualche milio più avanti, una bella strada secondaria si diramava verso destra, in direzione di Catanzaro. Il secondo capoluogo, dove appena un mese prima il fuoco di una moschetteria aveva terrorizzato la gente che affollava un mercato. Si trattava dell'annuncio di un'esecuzione, proprio a quell'ora, di quattordici briganti nella piazza. Essendo una bellissima giornata, fummo tentate di sederci all'aperto. Lasciamo che il vecchio magistrato facesse un sonnellino al nostro posto, all'interno, cosa che ci procurò la sua calorosa gratitudine, nonché un delizioso condimento nazionale avvolto in una delicata pelle bianca, lo stesso materiale usato dal corriere per le sue provviste, che le mantiene fresche, in particolare il burro. Avremmo dovuto avvolgerci anche i nostri buoni capponi di reggio. Egli ci mostrò un modo per pulirci e rinfrescarci le mani durante il viaggio, strofinandole con il cedro. Le città calabresi, nonostante siano costruite in pietra, fanno veramente pena. I terremoti hanno introdotto uno sciatto sistema di costruzione, per cui le impalcature vengono collocate all'interno degli edifici e inserite dentro i muri, cosicché quando vengono rimosse i muri rimangono pieni di buchi e mentre le pareti interne delle stanze vengono ricoperte da carta o pittura, nessuno si prende la briga di fare lo stesso all'esterno, anche solo per salvare le apparenze in tale bizzarro modo di costruire. Per questo gli edifici sembrano crivellati da proiettili e marridotti come vecchie fortezze, piene di buchi. Ma in ogni strada c'è uno spettacolo che compensa tutti gli altri difetti. Uomini e donne indossano costumi tipici. Quei bei copricapo bianchi, quadrati in cima effluenti dietro, corpetti di velluto allacciati e decorati con nastri a vivaci colori, sottogone rosse a coprire le loro statuarie figure. Sulle spalle scialli di lana a strisce color arancio vivo. Le donne che andavano a messa o a un battesimo erano agghindate di oro. Quelle che erano in lutto portavano copricapo trasparenti neri, quadrati come quelli bianchi. Quelle che andavano nelle campagne indossavano sottovesti larghe con sopragonne aperte davanti e annodate dietro a piacere, le calze corte alla caviglia, mentre erano molto rare le scarpe. Gli uomini sembravano in tutto dei briganti, con i cappelli a punta che hanno giocato un ruolo così importante nella iconografia romantica, torreggianti sulla testa e festoni di velluto, ciascuno con un occhiello pendente di lato. Le loro giacche, ghette e i sandali di pelle di capra sono esattamente come quelli dei briganti. Gli elegantoni si distinguevano per i brillanti colori dei gilet e per le vivaci orlature cariche di bottoni. Non erano pochi quelli vestiti così, ma tutti, tutti perfetti calabresi. La regione continuava ad essere bella, collinosa e fitta di boschi. Coloro che pensano che in Italia non crescano le foreste dovrebbero aver visto come erano grossi i tronchi delle querce e degli olmi e poi non vedrebbero l'ora di tornarci in primavera per riposare sotto le loro foglie. Anche l'olivo, quasi sinonimo di striminzito, non venendo potato, aveva rami graziosamente ondeggianti come quelli del faggio. Carretti patriarcali con ruote così spesse da sembrare che solo una pariglia potesse spostarli erano al traino di animali carichi di decorazioni più di una qualsiasi vecchio fez maresciallo. Siepi di aloe, grandi come cactus di Sicilia, segnavano i confini della proprietà, formando spinosi cavalli di frisia, fra cui a nessun ragazzo che marini da scuola piacerebbe rimanere preso. Ma ogni sei o sette anni la loro fioritura da queste parti deve portare i botanici in estasi. La notte sopraggiunse troppo in fretta. A luna del mattino una fortezza mostrò i suoi spalti su di un alto colle, al di sopra di una città che si stendeva su una serie di colline molto più in basso. Subito violenti scossoni dovuti al basolato irregolare, ben diverso da quello buono e facilmente percorribile della strada consularia, come i calabresi chiamano le strade costruite dai romani antichi, ci dissero che eravamo arrivati a Cosenza. Gli addetti alla stazione di posta erano già andati a dormire, così come capita in ogni stazione raggiunta dopo che si è fatto buio e ci volle mezz'ora perché si rendessero conto che era arrivata la posta del re. Don Raffaele non volle farci scendere, finché non ebbe trovato una locanda disponibile per i viaggiatori. Egli si assentò per molto tempo e il degno magistrato si diede da fare a intrattenerci con tazze di tè per farci rimanere svegli. Infine ritornò dopo che molti locandieri, in berretto da notte, affacciati alle finestre avevano detto che non c'era posto, ma solo per pigrizia, disse lui. Al quarto tentativo si fermò finché non ebbero preparato apposta una stanza libera. Ci fece condurre dai postiglioni fino alla porta della locanda e rendendosi conto che la sistemazione era un po' misera, gettò sul pavimento il suo mantello dicendo. Almeno c'è un tappeto, a prova che i Walter Reilig non sono ancora estinti. Quindi proseguì il suo viaggio per Napoli e poiché 40 ore di viaggio ci avevano lasciato poche sensazioni sibaritiche. Ben presto dormimmo sodo in letti veramente puliti. Quale visita, o lettore, pensi che si aprisse davanti alla nostra casa? Quale vista? Il sito della tomba di Alarico. Immediatamente sotto le due finestre si vedevano il busento e il crati, i due fiumi il cui corso fu deviato perché l'ultimo dei goti venisse seppellito sotto le acque ricondotte nel loro alveo. Alla nostra richiesta di fare colazione rispose la più affabile delle locandiere portandoci del buon caffè e diverse prelibatezze locali. Latte di bufala, della consistenza di panna rappresa rassodata con uova e chiamato provola. Muzzarelli, cioè sacchetti di pastella grigliati con pepe e trasformati nei piccoli diavoli del capoluogo e il formaggio nazionale di capra detto caciocavallo. Avendo ritrovato tutta la nostra biancheria macchiata del giallo del bergamotto, le cui bottiglie si erano quasi tutte rotte durante il viaggio, la locandiera la prese immediatamente le prese dicendo chiedeteci tutto ciò che vi serve, siamo allerta. Approfittando subito di questa disponibilità facemmo lavare il pavimento di mattoni, il che avveniva per la prima volta come la cameriera ammise perché solitamente le pulizie venivano fatte con scope di code di volpe di cui probabilmente era stata anche mangiata la carne. Il garzone della locandiera, Petruccio, portò la nostra lettera di presentazione a una signora proprietaria di una fabbrica di seta ma tornò indietro dicendo che non aveva trovato nessuno al lavoro perché era in corso la festa dell'adorazione dei magi, vigilia dell'epifania. Comunque la signora mandò subito il suo sovrintendente a chiedere le nostre notizie e ad informarci che lei al momento era impossibilitata a venire perché il giorno prima era morto suo zio, segretario generale della provincia e che se fossimo andati in chiesa lo avremmo potuto vedere sul feretro. In quel momento passò una magnifica processione accompagnata fra uno sventolio di bandiere dalle autorità civili e militari. Entrando nel tempio seguimmo costoro che stavano in piedi con la torcia in mano attorno a un catafalco dorato sul quale era posto ed esposto in uniforme il loro compianto collega e la solenne messa di funerale e benizio. Alla fine l'orazione funebre fu pronunziata dal giovane che ci aveva fatto visita per conto del suo padrone, il marito della signora che successivamente sarebbe stato relegato o chiuso in prigione nell'isola di Procida. In un angolo appartato della chiesa si trovava una cassa con chiodi di ottone nella quale verso sera il defunto segretario sarebbe stato portato nella tomba dai monaci seguiti dai suoi ex dipendenti incaricati di prendere possesso della chiave del feretro. Le altre chiese erano piene di gente in adorazione dei magi, né c'è da meravigliarsi perché quei sovrani orientali erano magnificamente vestiti e sistemati. Nella zona più in vista dell'edificio sacro erano state innalzate colline che imitavano quelle naturali coperte di alberi e attraversate da strade e sulle quali si arrampicavano piccole figure di uomini, donne e bambini tutti diretti in un punto dove c'erano vacche al pascolo. Lì un bambino stava fra le braccia di una giovane donna piegata su una mangiatoia e incoronata da un diadema in miniatura mentre riceveva gli omaggi di tre ricchi sovrani seguiti da servitori carichi di doni. L'effetto era tanto curioso quanto bello. I presepi, come sono chiamati questi dolci fatti da preti per la vigilia dell'epifania, erano uno più gustoso dell'altro. Uno era interamente composto di argille cristallizzate di vari colori e sormontato da un castello di fronte al quale zampillava una fontana circondata di fiori. Sullo sfondo si vedeva un'aia popolata di capre, galline e piccole anatre. Mentre lungo la strada che scendeva verso la grotta della natività c'era una trattoria dove potevano rifocillarsi i pellegrini, fra cui compariva il re di Spagna, Isperoni e Gorgera, assieme a graziose signore in vesti dorate. Questo complesso scenario, illuminato di notte da lampade di vari colori, mandava invisibilio il popolo. Il mattino successivo fummo svegliate, prima dell'alba, da uno spaventoso grugnito sotto le finestre. Ahimè, il mercato dei maiali si teneva sulla tomba di Alarico. Poiché i fiumi non erano stati in piena negli ultimi giorni, si era formata una banchina asciutta dove si commerciavano migliaia di quegli animali, per lo più neri. La padrona, con fare misterioso, ci indicò, attraverso i cardini della porta, tre rispettabili giovani mercanti di maiali, che stavano salendo al piano di sopra e che, e la disse, erano ricchi, ricchissimi. Le loro magnifiche catene di orologio rendevano plausibile la cosa, benché l'abbigliamento e le gote rossastre fossero quelle dei contadini. Un po' per i maiali, un po' per una fiera dei fronzoli chiamata Beffano, che si teneva sempre per l'Epifania, e dove il popolo poteva procurarsi le cose con cui agghindarsi per il carnevale, la città non avrebbe potuto essere più affollata. Invece di un cappello a pan di zucchero a testa, pochi si contentavano di averne meno di due, un vecchio, uno vecchio ed uno nuovo, a seconda del tempo e delle circostanze. Così, a un rovescio d'acqua, compariva il vecchio. Con il cielo azzurro, o davanti a una ragazza carina, spuntava subito quello nuovo. Le donne non erano da meno, per inventiva. L'accostamento di uno splendido grembiule risultava come stampato sulla veste. Il nostro stile deve averli ugualmente sbalorditi, a giudicare dalla gente che interrompeva gli affari per noi, dai generosi sforzi della guardia urbana per impedire che la folla ci venisse appresso, facendo appello alla cortesia della gente. Non fate pensare alle signore di essere in Africa. Tuttavia non c'è mai stata una scena meno desolante di questa. L'ingresso al nostro albergo passava attraverso le scuderie e formava un quadretto tale da fare impazzire un artista. Lo sfondo color terra bruciata, cui sintonava l'intera casa, mostrava folti e animati gruppi in grande armonia fra loro. Essi si scostavano al nostro passaggio e chi avrebbe potuto smettere di contare le piccole pozze sulla scalinata o le botole aperte sulle mangiatoie. Più tardi, verso sera, mi capitò di uscire a chiamare Petruccio e, smarrita la strada in quei lunghi passaggi, mi trovai di fronte a una vista senza uguali. L'intera casa, nella parte inferiore, era vuota e poggiava su archi interminabili, sotto ciascuno dei quali sonnecchiava un contadino con il proprio cavallo. Nella luce fiocca sembravano eroi morti, in attesa della chiamata per il valalla. Terribilmente spaventata, corsi via, scontrandomi con un ragazzo che portava un enorme vassoio di panna decorata, cosparsa di minuscoli zuccherini fondenti dai colori dell'arcobaleno. Si trattava di un dono appena arrivato da una signora di nostra conoscenza, che non avevamo ancora visto, bella quanto il suo regalo. La chiamerò Donna Bella. Ella fissò per il giorno dopo la nostra visita alla fabbrica di seta, dove si trovano e si trovavano circa un centinaio di telai costruiti a Napoli da artigiani inglesi e messi in funzione da pressi idrauliche nella stagione ora conclusa. Per molti anni il sovrintendente era stato un inglese, del quale parlavano come del povero Tom Wilkins, annegato nel Mediterraneo nel naufragio dell'Ercolano. La durata della prigionia del marito di Donna Bella, stabilita dapprima in 25 anni di condanna ai ferri per avere preso parte all'ultima rivolta, era stata poi ridotta in giudizio a pochi mesi di isolamento e il suo ritorno era atteso con viva impazienza. Cosenza è una città che desidera ardentemente la libertà e il progresso e perciò è stata severamente repressa. Difficile è trovare una famiglia che non abbia qualcuno dei suoi membri in prigione e ai giovani è proibito viaggiare o esprimere il proprio talento in qualunque altro luogo. Essi devono studiare ed esercitare le loro professioni sul posto e quando si consideri che nel settore legale gli stipendi dei giudici ammontano soltanto a 50 stelline l'anno, la condizione dei funzionari di grado inferiore non può certo favorire l'emulazione. Si dice che il governo, con queste retribuzioni così basse, costringe i dipendenti a prendere le bustarelle quando si tratti di decidere cause che trasferiscono milioni e che questo è il sistema con cui lo Stato mantiene i propri servitori per consentire all'esercito e al clero di dissipare le risorse pubbliche. All'opera ci aveva assai divertito l'indifferenza con cui ci venivano indicati i giudici onesti e quelli disonesti, anche se sono contenta di poter dire che questi ultimi erano solo una minoranza. La Calabria offre ben poche tentazioni di vita stravagante e costosa, date le sue condizioni primitive e le sue scarse risorse. La terra è molto produttiva, alcuni proprietari guadagnano qualcosa come 12.000 sterline all'anno e ricevono contributi in natura da parte dei loro fattori. I gesuiti fanno di tutto per impossessarsi di queste ricchezze e arrecano danni incalcolabili nelle province con la loro influenza quasi senza limiti presso le pubbliche autorità. La città ha speso di recente 50.000 ducati nella costruzione di un bel teatro. I gesuiti, invidiosi che tanto denaro fosse impiegato per qualunque scopo che non fosse una chiesa, quando il teatro era quasi terminato, finsero di avere scoperto una cappella appartenente al loro ordine, situata su quel terreno che, essendo consacrato, non poteva essere destinata ad altro uso. Da Napoli venne l'ordine di demolire il nuovo teatro e restituire il terreno ai gesuiti. Il loro successivo attacco fu diretto contro una donna a cui il marito aveva lasciato tutto il suo patrimonio. Essi dichiararono falso quel testamento e poiché la donna ebbe in prima istanza la meglio su di loro presso il tribunale locale, fecero spostare la causa a Napoli. Qui l'avvocato della signora le disse che la causa sarebbe stata persa se non si fosse ricorso a una procedura particolare. mise 15.000 ducati in una busta, chiese di vedere il ministro della giustizia e mettendo il plico sul tavolo disse «qui ci sono gli argomenti a favore della mia cliente». Dopodiché corse via più in fretta che poté. Il ministro prese la busta e appena si accorse di quello che conteneva gli corse dietro dicendo «portatela via, non voglio nemmeno vederla». Ma l'avvocato era già scomparso e il ministro ebbe tempo per riflettere. Dopotutto egli pensò «è la signora a essere perseguitata» e scrisse al giudice queste parole «ti presento la mia amica Marchesa, vedi che le si è resa giustizia» e la causa fu immediatamente decisa in suo favore. I ministri ricevono mille ducati all'anno, ma tengono un tenore di vita che va dai 5.000 ai 10.000 e questo proprio sotto il naso del re. Una grossa fonte di guadagno sono le grazie. Ad esempio, se un uomo è condannato al carcere a vita, ma ha amici danarosi che sanno come mettere le cose a posto, interessano della cosa il ministro o qualcuno vicino alla persona del re. E quando sua maestà è di buon umore o in qualche occasione piacevole, poche parole dette con diplomazia procurano al condannato la grazia o una riduzione di pena. La condizione dei prigionieri politici che non hanno amicizie è talmente misera che va al di là di ogni immaginazione. Coloro che non sono in catene ai lavori forzati giacciono febbricitanti nella più completa oscurità e sporcizia e le provviste che arrivano da fuori vengono guastate dalle baionette conficcatevi dai soldati. Potrei riferire storie senza fine che mi sono state raccontate dalle stesse vittime, ma non lo faccio per timore di recare danno a qualche testa sfortunata. Posso solo aggiungere che, secondo loro, il pamflet del Glenstone sulle prigioni di Napoli era del tutto veritiero, ma si rammaricavano che nella saggia Inghilterra lo spirito di parte fosse arrivato al punto di permettere a chiunque di negare quell'assoluta verità. L'argomento di conversazione più in voga a Cosenza in quel momento era il grande terremoto che aveva appena devastato le province limitrofe, danneggiando considerevolmente i loro edifici. Le chiese e molte delle case dalla struttura già non solida erano puntellate da travi sistemate all'esterno. La fortezza, due o tre anni fa, è parzialmente crollata, seppellendo le truppe che vi erano acquartierate. Donna Bella e sua figlia, Donna Bellina, un magnifico esempio di donna calabrese di autentico tipo romano, ci chiamarono per portarci all'opera, scortate da un buon numero di uomini e lanterne. I cantanti sono ora obbligati a dividersi il circo equestre con i cavalli. A un'estremità dell'arena viene montato un palcoscenico mobile, mentre i cavalli vanno a esibirsi in un'altra città. L'opera era ancora il trovatore, che pare abbia fatto presa nel cuore del pubblico e, realizzata egregiamente nel cuore delle montagne natie, era commovente in modo irresistibile. Alla gingara non occorrevano belletti. Nella scena in cui il fuoco sta per divorarla, la fiamma alimentata da un enorme mantice azionato da catene, come quelli usati nelle grandi fornaci, sembrava uscire dal castello di Otranto. Il pubblico conosceva tutte le parole a memoria e non poteva fare a meno di canticchiarle, al punto che sembrava volesse unirsi al coro. Le gelosie dell'ambiente teatrale sono arrivate fino a Cosenza. Infatti, nessuna delle due cantanti era disposta a farsi chiamare seconda donna, ma con primaria. Tuttavia, le loro abitudini sono così modeste che, in occasione delle serenate o recite di beneficenza, esse vanno in giro personalmente a raccogliere il denaro. Nel lasciare la casa, molte persone vennero a chiedere a donna bella se potevano essere loro presentate, perché in Calabria c'è una vera mania per l'Inghilterra. Il nostro paese appare a loro come un bel miraggio di beatitudine su un mare lontano, governato da un angelo. Infatti, dicevano, voi non avete bisogno della Madonna, avete la regina. Ci dispiacque molto, dover lasciare questa città semplice e genuina, dove persino i locandieri sono disinteressati. Infatti, quando chiedemmo il conto, fecero finta di niente e non volero parlare di prezzo, dicendo che sarebbero stati contenti di qualunque cosa volessimo dare, tanto era il loro piacere di ospitare gli stranieri. E non era un discorso falso. Infatti, dopo esserci consultate con la nostra amica, pagammo il prezzo che lei ci aveva suggerito e che suscitò tanto entusiasmo che essi ci coprirono di baci le mani e i vestiti. La carrozza, che doveva portarci a Paola, era degna del luogo. Nella nostra parte di mondo non si deve, non si vede niente di simile da secoli, forse solo in una o due nelle immagini delle antiche processioni di Hampton Court. Una scala a pioli portava a un calesse, coperto, decorato con pannelli di bronzo, raffiguranti scene mitologiche. Dalla parte anteriore sporgeva un grande mantice, che copriva il posto a cassetta e quattro vivaci cavalli da tiro, con le criniere e le code arricciate, erano imbrigliati a pariglia. Quando questo equipaggio, guidato da due conducenti, giunse crepitando all'albergo con la scorta di una guardia armata e tre ragazzi arrampicati sopra, provammo una grande emozione. Alla partenza, poiché i quattro cavalli non riuscivano a procedere in fila, due vennero staccati e, svoltando l'angolo, riattaccati così da poter galoppare insieme per il terrore degli agnellini e dei capretti legati alla maggior parte degli usci. Come al solito, alcuni gentiluomini ci scortarono per un certo tratto della strada, poi ci affidarono alla guardia urbana, che era vestita esattamente come i contadini, ma sembrava più che altro un bandito, poiché portava la pistola. La guardia urbana è un corpo, in parte, composto dagli abitanti delle campagne vicine, i quali sono obbligati a montare di guardia a turno e potrebbero essere meglio definiti rustici in urbe. Quando non sono in servizio, la loro principale occupazione consiste nel sequestrare i ricchi proprietari e tenerli sui monti finché non venga pagato il riscatto, il sistema medievale di estorsione. Vedemmo un gentiluomo, in partenza accompagnato da quattro servitori armati fino ai denti, tanto da farci pensare che dovesse andare fino a Napoli. Invece la sua casa era distante, appena 15 miglia, ma senza quella protezione non avrebbe potuto arrivarci sano e salvo. Poche sono qui le bande organizzate, perché si tratta generalmente di contadini spinti dal bisogno, ma quando montano la guardia di loro ci si può fidare. C'è tanta espressività nella faccia dei calabresi che vi si può leggere tutto quello che hanno in mente, per cui non c'è motivo di considerarli con sospetto. Erano di gran lunga gli uomini più belli che avessimo visto, in quanto il freddo degli inverni calabresi conferisce loro una freschezza quasi inglese. La regione è l'ideale per i viaggiatori intraprendenti, visto che c'è una piccola eccitante dose di pericolo che stimola il senso dell'avventura romantica, né c'è alcun timore di scorgere nella vetrina di qualche negozio un cartello con su scritto a casa, come scoprimmo una volta in una remota valle svizzera.